Per la campagna Primavera-Estate 2015 Buongiorno, buongiorno. Ora facciamo così, come stai ora. La mano è come apparizionante, sta perfetto, ti fa tanto la pressione. Buongiorno. Una, due... Ciao, sono Ivan. Sono felice di essere qui a Barcellona per la campagna Primavera-Estate 2015. Sono onorato di essere qui in Barcellona, in questa città piena di energia, molto calda. Devo ringraziare tutto il team, la squadra. Sono sicuro che le foto vi vanno a piacere. Ciao a tutti, sono Fabio Schiavone, sono di Torino. Mi trovo qui a Barcellona per fare la campagna di Underworld DS Collection. Sono onorato di questa cosa. Ringrazio tutto lo staff DS Collection. Peace and love. Grazie. A poco a buffardo. Grazie a все e... I hope you like it!